La MotoGP torna a Misano una settimana dopo per correre il double header sul circuito romagnolo a sto giro non per il Gran Premio di San Marino ma per il Gran Premio della mia regione, il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e partiamo come al solito dalla fine partendo dalla categoria regine vittoria di Maverick Vignales che incredibilmente non fa il passo del gambro e sfrutta già l'Apple Position dalla qualificazione è una gara di MotoGP che ancora una volta tiene vivo il campionato per via di tanti episodi che sono successi e la stessa cosa può dirsi per le altre categorie che hanno corso a Misano Adriatico per la Conaca il Racing Podcast che adesso parte è uscito il martedì e non il lunedì perché in contemporanea c'era la Superbike come sapete tra Superbike e MotoGP nel mio caso a priorità la Superbike quindi andate a recuperare anche il video di ieri che parla della gara di Barcellona e poi concentriamoci sulla gara di Misano, gara 2 per quanto riguarda il moto mondiale ed è una gara che appunto ha decretato Maverick Vignales vincitore ma più che ha decretato Maverick Vignales vincitore io direi ha decretato Francesco Bagnaia perdente per un incidente che è capitato al pilota torinese al giro se non sbaglio numero 16 quando ne mancavano 7 alla fine in ogni caso chiusura di anteriore come vediamo dall'immagine alla curva 6 stende Bagnaia e lo trascina per campi ed è veramente un peccato perché il pilota del team Ducati Prama che aveva impresso un gran passo ha dimostrato che comunque è un pilota che potrebbe meritare già l'anno prossimo la moto ufficiale al fianco di Jack Miller e questa era una prova di forza veramente incredibile era l'unica Ducati veramente competitiva quella del pilota piemontese visto che Miller si è ritirato, De Viziose e Petrucci hanno fatto come al solito una gara anonima Vignales aveva fatto sì una proposition in qualificazione ma non aveva il passo per stare dietro a Bagnaia che purtroppo la butta via per questo incidente ed è questo un po' il leitmotiv della gara perché appunto grazie a questa caduta il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Vignales come diceva in apertura per una volta concretizza la proposition della qualificazione e taglia il traguardo per primo per lo spagnolo suona dunque la marcia reale l'inno nazionale spagnola una vittoria che per il morale dello spagnolo può sicuramente essere utilissima e fondamentale perché appunto Vignales era noto per fare delle prestazioni suntuose in qualificazione partire spesso in prima fila e poi mai concretizzare i risultati del campionato lo dimostrano per una volta invece Vignales aveva un passo comunque costante che gli avrebbe comunque consentito il podio e invece grazie alla caduta di Bagnaia lo spagnolo va a tagliare il traguardo per prima ed aggiudicarsi i 25 punti della vittoria è una gara che comunque non evidenzia ancora una volta un dominatore perché appunto come ho detto più volte senza Marc Marquez in questo campionato tutti gli altri piloti che sono più o meno allo stesso livello se la possono giocare e infatti come appunto vedremo ogni gara di fatto l'ha vinta un pilota diverso tranne le per due che l'ha vinta il francese Fabio Quartarro Fabio Quartarro che tra l'altro non riesce a tornare in testa al titolo del mondo perché un long lap penalty non rispettato all'ultimo giro fa retrocedere il francese di tre secondi e dunque fuori dal podio e la classifica al termine del Gran Premio di Misano 2 o Gran Premio della mia regione dell'Emilia-Romagna è la seguente, Dovizioso è ancora in testa con 84 punti secondi exequo sono Maverick Vignales appunto che ha vinto ieri l'altro e Fabio Quartarro quarto è Juan Mir che col secondo posto perché appunto la Suzuki è andata al podio anche lui è in lotta per il mondiale un po' più staccati gli altri con Morbidelli, Miller e Nakagami anche altri piloti hanno fatto delle cadute importanti e appunto probabilmente li tolgono già fuori da questa lotta al mondiale che sembra un minimo adesso non coinvolgere più nove piloti ma comunque quattro che sono veramente veramente tanti il podio della MotoGP appunto lo completano questi tre piloti Maverick Vignales primo, Juan Mir secondo quindi doppietta spagnola per la nazione iberica e terza, anzi trippietta spagnola scusatemi perché appunto al terzo posto c'è Polissio e Spargaro con la KTM che torna sul podio dopo i fasti del Gran Premio di Stiria le altre posizioni quarta posizione appunto per Fabio Quartarro che non ha rispettato un giro di penalità al ultimo giro e dunque è stato un retrocesso di tre secondi quinta posizione per Miguel Oliveira con KTM in questa MotoGP che piazza a quattro iberici nei primi cinque Oliveira è uno dei rookie anzi in realtà non più comunque uno dei piloti probabilmente rivelazione di questa stagione sesto il solito Takaki Nakagami ancora una volta la miglior onda in pista considerato che a sto giro Stefan Bradel è infortunato e non è partito dunque la scuderia giapponese ha corso soltanto con due piloti in pista settima posizione per Alex Marquez al miglior risultato in carriera in MotoGP evidentemente le modifiche fatte alla moto per rendere il setup simile a quello del fratello Marquez sono servite e Alex Marquez ha fatto una prestazione decente ottavo posto per Andrea Dovizioso che inspiegabilmente incredibilmente è ancora leader del Mondiale dopo due gare di italiane veramente orrende non ha posizione per Franco Morbidelli che è caduto nei primi giri ed ha rimontato fino alla nona piazza e chiude la top 10 Danilo Petrucci con la seconda Ducati ufficiale ancora una volta purtroppo una prestazione in colore per il pilota Umbro ci sono state comunque delle cadute importantissime che appunto hanno condizionato questo Mondiale MotoGP o quantomeno la corsa al titolo del mondo Francesco Bagnaia è una caduta comunque importante non per il titolo del mondo ma perché probabilmente poteva centrare la prima vittoria in carriera in MotoGP la caduta di Rossi per la matematica è comunque un'altra cosa da segnalare perché Rossi prima di questa gara era in corsa per il titolo del mondo questa caduta al primo giro di fatto lo strimette per una prestazione di certo non felicissima per il pilota marchigiano altra caduta importante è quella di Brad Binder che comunque rimane il rookie dell'anno tante cadute comunque hanno condizionato questa gara è comunque appunto una competizione di San Marino che dà una svolta al mondiale perché appunto riduce la corsa a quattro piloti che sono Dovizioso Quartarovignales e Mir evidentemente a oggi è più un affare delle Yamaha va detto che la scuderia dei 3 di Amazon era favorita su questa pista da Ducati a parte sprazzi di Bagnaia ha fatto veramente fatica speriamo che Dovizioso possa in ogni caso continuare a fare più punti di così e fare prestazioni più decenti di così perché un settimo e un ottavo posto onestamente sono molto molto poco per un pilota che è vero andrà via dalla Ducati quest'anno ma che comunque a oggi è ancora il leader del mondiale e avrebbe tutte le credenziali in merito per vincere questo campionato nel mondo ed è per questo che a malincuore considerato che io sono un grande tipo della Ducati specialmente di Dovizioso la mia delusione del giorno la do a lui perché ovviamente ok ottavo e settimo però entrambe le competizioni sono state caratterizzate da tante delusioni soprattutto in qualificazione Dovizioso è partito sempre troppo indietro e ha dovuto sempre fare gare di rimonta e una volta arrivato a centro classifica si è stazionato lì quindi sono state gare totalmente anonime e in colore ed è un peccato perché appunto ripeto ancora una volta Dovizioso è in testa al mondiale ed è in testa al mondiale esclusivamente perché non ha fatto mai un ritiro una vittoria e un podio è veramente un puntino troppo poco considerato che poi le altre gare sono state più o meno tutte simili tranne forse la stira che si è andato nei primi cinque ma tutte le altre vedete sesto, undicesimo, settimo, ottavo insomma posizioni non consoni a quello che può essere evidentemente un candidato al titolo del mondo il rider del giorno comunque lo voglio dare non a Vignales ma a Juan Mir perché comunque si sta dimostrando un pilota veramente sul pezzo per un giovanissimo rider che è arrivato l'anno scorso in MotoGP dopo soltanto una stagione in Moto2 Juan Mir è comunque campione mondiale di Moto3 secondo podio consecutivo terzo podio in quattro gare e Juan Mir sta diciamo ribaltando le gerarchie in casa Suzuki ed è una cosa strana visto che all'inizio Alex Trins era il pilota più quotato e invece Davide Bri si sta diciamo sfregando le mani perché appunto sta trovando un pilota veramente talentoso che è questo Juan Mir che a oggi è seriamente in lotta per il titolo perché è quarto a 80 punti e considerato che il primo è a soli 4 punti di distanza c'è speranza anche per la Suzuki per vincere il titolo del mondo tra l'altro la MotoGP non si ferma qui perché farà 3 gran premio in 3 settimane il prossimo appuntamento sarà in Catalogna gran premio di Barcellona quindi una settimana dopo la Superbike che ha decretato l'allungo del mondiale direi e Andrea Locatelli ex moto mondiale campione del mondo della Supersport parentesi sulle altre categorie prima di concludere il Racing Podcast se in MotoGP non ha vinto un italiano Moto2 e Moto3 sono un affare italiano perché nella categoria intermedia vince uno dei miei piloti preferiti di sempre ovvero il best di Rimini Enea Bastidini che vince la terza gara della stagione e allunga al secondo posto in classifica e accorcia in lotta per il titolo del mondo Moto2 perché adesso con il quarto posto di Luca Marini sono soltanto 5 i punti di distacco per quanto riguarda il pilota di Rimini con il fratellato di Valentino Rossi il fratellato di Valentino Rossi tra l'altro che partiva dalla pole è una doppietta italiana perché Marco Bezzecchi si dimostra ancora una volta un pilota sul pezzo e fa il terzo podio consecutivo seconda posizione per lui e terzo posto per Sam Lowe's che fa il secondo podio stagionale ed è un peccato per il pilota inglese che è veramente molto talentuoso ma molto attalenante e alterna prestazioni incredibili come il podio di Misano ha prestazioni orrende come l'ottavo posto in gara 1 per esempio dello stesso Misano ed è molto staccato già il quarto in classifica evidentemente il campionato Moto2 è un affare italiano tra Marini Bezzecchi e Bastianini con appunto la matematica che vede in una vittoria di distacco i tre piloti di cui due dello Sky Racing Team VR46 io personalmente da tifoso di Bastianini spero che abbia la possibilità di vincere un titolo del mondo titolo del mondo che non ha mai vinto neanche in Moto3 e Bastianini sembra tra l'altro destinato l'anno prossimo ad andare in MotoGP al posto di Sarko nel team Avintia quindi spazio in Ducati anche per il pilota di Rimini Moto2 che è equilibrata Moto3 che è ancora più equilibrata perché come vedete qui il distacco tra i due principali contender è di soltanto due punti Albert Arenas non va a podio neanche in gara 2 a Misano in una gara che vince Romano Fenati e anche per lui così come per Enea Bastianini è una fatta dell'Italia l'inno nazionale italiano ed è una vittoria significativa per il costruttore di Romano Fenati che è l'Usquarna che è una moto di nazionalità svedese che comunque fa parte del gruppo KTM anche se corre per un marchio diverso in ogni caso è giusto ottenere il terzo costruttore diverso che vince in Moto3 quest'anno seconda posizione per appunto Celestino Vietti di KTM Sky Racing in via del 46 terza posizione per Ayogura che è un pilota estremamente costante come vedete i suoi 117 punti sono arrivati soltanto per tutti i podi a un quarto posto peccato per il ritiro della gara di Andalusia dove si è ritirato tra l'altro anche lì Albert Arenas che ha fatto però uno zero in più ed è uno zero fondamentale quello a Misano gara 1 anche la Moto3 è un capito veramente equilibrato attenzione poi ai primi tre in particolare l'unico italiano per il momento seriamente competitivo è Celestino Vietti che se è in grano un podio anche nelle prossime gare probabilmente anche lui tornerà in corsa per il titolo del mondo gli altri per il momento sono un pochino staccati in particolare Tazuki Suzuki team 58 squadra corse e Tony Arbolino team snipers entrambi comunque su Honda e vedremo cosa succederà per quanto riguarda il campionato di Moto3 in Catalonia c'è stata anche la MotoE l'ultima categoria che ha corso a Misano categoria che non correrà a Barcellona ma che ha avuto il cambio di leadership e anche qui c'è un italiano in testa il solito Matteo Ferrari mi verrebbe da dire che riesce a rimontare lo svantaggio su Dominic Gerter con la caduta del pilota svizzero in gara 2 per la Conaca c'è stato un incidente appunto coinvolto e Gerter e Tommaso Marcon Tommaso Marcon sbaglia l'ingresso in curva e centra in pieno il pilota svizzero che in colpevole viene centrato e finisce in tribuna e poi finisce purtroppo sedicesimo Dominic Gerter e questa caduta è fondamentale per Matteo Ferrari perché vincendo la gara 2 di Misano non solo suona fratelli d'Italia per lui ma scavalca lo svizzero in testa al campionato e dunque il campionato vede Ferrari in testa 86 punti con Gerter secondo 82 e Torres terzo a 79 se la gioca anche Mattia Cazdei che fa podio in gara 2 seconda posizione per il pilota del team di Paolo Simoncelli podio di gara 2 completato da Jordi Torres in terza posizione podio di gara 1 invece che coinvolge i primi tre vince Dominic Gerter gara 1 ed è per questo che ha fatto 82 punti per Gerter suona il salmo svizzero seconda posizione per Jordi Torres che infila Matteo Ferrari nelle ultime due curve e si prende questa seconda posizione di prepotenza e terzo appunto a Matteo Ferrari che comunque è ancora il leader di questo campionato del mondo Moto E e con le ultime due gare del campionato di Le Mans potrebbe essere appunto in lizza per vincere di nuovo il titolo dunque essere proclamato bicampione del mondo di questa criteria dunque a Le Mans ci sarà il primo verdetto di questa giornata del moto mondiale 2020 e ovviamente ci sarà nel caso il Racing Podcast dedicato in ogni caso vi lascio con la classifica della MotoGP una classifica veramente corta con 4 piloti in 4 punti con Dovizioso primo 84 punti quarto lavoro Vignales secondo ex equo 83 e quarto Quadmir a 80 i prossimi appuntamenti del canale saranno i seguenti domenica ci sarà il Racing Podcast alle ore 19 per il Gran Premio di Russia Formula 1 il giorno dopo sempre alle 19 ci sarà invece non un podcast per il moto mondiale ma per la stagione MLB perché il 27 finisce la regular season dunque c'è il tabellone dei playoff e dunque parleremo della postseason della Major League Baseball soltanto a martedì parleremo del moto mondiale ma sono 3 appuntamenti importanti da seguire iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e saluto da parte di Matthew Torger ci vediamo presto dunque al prossimo video